Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e siamo tornati a giocare a Pro Cycling Manager da poco è uscita la nuova edizione di Pro Cycling Manager 2024 da adesso farò un test di video di gameplay, non li farò più utilizzando anche la videocamera che mi filma almeno per il momento perché poter registrare mentre gioco solo parlando almeno per ora mi fa guadagnare più tempo per far sì che riesco a editare più veloce il video e riesco a portare anche dei contenuti più belli all'interno del canale oggi andiamo a vedere le novità di Pro Cycling Manager 2024, tutto quello che è cambiato rispetto al 2023 in realtà io l'ho già provato, ho già visto qualcosina di nuovo e devo dirvi che delle funzionalità nuove soprattutto nella modalità carriera mi hanno gasato moltissimo dopo ve le andrò anche ad elencare, vi farò vedere anche tutto quello che ho scoperto e prima di andare a vedere tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale, accendendo la campanellina se non l'avete ancora fatto e di lasciare un bel like a questo video sono due azioni molto semplici che per voi sono gratuite ma per me possono fare una grande differenza per portarmi a continuare a portare all'interno di questo canale questo tipo di contenuti e non solo detto questo però andiamo a vedere Pro Cycling Manager 2024 allora scrivete poi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo gioco e scrivetemi pure qua sotto nei commenti cosa preferite vedere se veder la modalità carriera, dopo vi farò vedere anche le novità che ci sono e quanto è diventata carina secondo me oppure la modalità Pro Cyclist che vi avevo già portato dopo forse andiamo anche a fare una gara singola oppure potrei approfittare per andare a vedere le gare su pista che vi avevo accennato in qualche vecchia puntata di Pro Cycling Manager in realtà le ho già provate perché ero curioso a vedere se avevano migliorato un qualcosa e la modalità pista rimane invariata ormai da anni e fa un po' non è il massimo diciamo forse dopo però la proviamo giusto per inaugurare assieme questo Pro Cycling Manager 2024 allora come nelle altre edizioni vabbè è cambiato il colore dell'interfaccia però per il resto rimane tutto uguale le modalità sono sempre le stesse quindi pista che vi ho accennato prima gara singola quindi all'interno possiamo andare a scegliere la gara che vogliamo fare io ho già scaricato una mod quella del WorldDB 2024 che mi dà più maglie, più corridori, ci sono le gare reali, ci sono più gare è molto carina in realtà adesso sto un attimo capendo come fare ho visto anche delle mod del gioco che ti danno la possibilità di cambiare le maglie di scaricare i componenti reali ma non solo quelli che troviamo nel World Tour nelle gare proprio tanti altri marchi di biciclette, ruote, caschi, abbigliamento, maglie modificate molto fighe che merita molto ma nelle prossime puntate poi vedrò di informarmi vedrò di scaricare qualcos'altro giusto perché merita merita e siccome cambia anche l'esperienza poi del gioco andiamo a vedere velocemente quindi la gara singola tutto quello che troviamo per il Tour de France che inizierà a fine giugno abbiamo già le tappe REA eccole qua, questa sarà la prima tappa la Firenze-Rimini anche se qua scrivono Florence-Rimini di 211 km, 9 km guardiamo che bella, tosta che è anche vabbè qua è pieno di gare gare anche under 23 questo è il giro under quindi molto carina la modalità Pro Cyclist rimane invariata al 2023 quindi uguale a quella che vi avevo già portato all'interno di questo canale per capirci, questa è l'interfaccia ho appena creato una carriera giusto per vedere se cambiava qualcosa ma è rimasto tutto invariato questo sono io ecco la maglia della ZALF in questo caso non c'è all'interno del gioco ma scaricando la mod, quella che vi ho fatto vedere prima c'è la possibilità di avere anche la ZALF di avere tantissime altre squadre ma non italiane, proprio di tutto il mondo parte di allenamento poi c'è la parte del calendario vediamo la squadra quindi rimane praticamente tutto invariato diventa però interessante la modalità carriera adesso vi faccio vedere una modalità carriera che ho già creato per provarla prima di fare il video eccola qua adesso vi chiedo voglio iniziare una serie sul canale preferite vedere la modalità ProCyclist come abbiamo già fatto con il 2023 oppure la modalità carriera e qua si può fare in diverse alternative quindi scrivetevi qua sotto nei commenti cosa ne pensate se preferite la modalità ProCyclist o la modalità carriera e la modalità carriera la possiamo fare sia con la squadra che creiamo noi siccome la miglior cosa e quella per la cosa più bella con una squadra Continient all'Under 23 diciamo dove si può comunque fare un bel calendario per con l'obiettivo di farla poi crescere il più possibile farla arrivare world tour oppure da una squadra professional di un bel livello tipo questa che ho creato adesso ve la faccio vedere velocemente eccola qua Jan Gristen Isaac Del Toro Michael Madis Antonio Morgado e Paul Magni diciamo sono i corridori più forti e poi per il resto ho preso praticamente tutti i corridori dai 18 a massimo 20 anni i più forti che ci sono giusto per fare qualche nome Jorgen Nordhagen Matthew Brennan e tanti tanti altri che se state guardando il Giro d'Italia Under 23 potete vedere potete vedere quanto vanno forte e stessa cosa anche qua nel gioco perché le prime stagioni magari non vanno fortissime ma già dopo una barra due stagioni iniziano a essere fortissime quindi per questo secondo me fare una carriera partendo da una squadra professional con tanti corridori giovani promettenti può avere il suo senso perché dopo una barra due stagioni ci diventa una delle squadre World Tour più forti poi aumenta il budget e si possono comprare anche altri corridori di talento ma oltre a questo andiamo a vedere le funzionalità che mi sono piaciute allora questo mi ha gasato moltissimo perché si può decidere dove andare ad investire per far migliorare la tua squadra oppure far migliorare qualche corridore la squadra la possiamo far migliorare comprando dei materiali per le classiche del pavè e questo ti dà un 0,2 più 2 stelle diciamo la caratteristica del pavè che se puntiamo quelle gare male non è abbiamo la possibilità di mettere il rivestimento della catena ceramico penso che ti dà un 0,1% in più in montagna media montagna collina volata pavè cronometro e pianura bello bello mi piace perché queste sono quando poi te le immagini sono delle cose porno abbiamo la possibilità di mettere il rivestimento della catena che qua non ti dà un 0,1% ma ti dà un 0,2% quindi il doppio a 50.000 quindi guardiamo poi un attimo i prezzi e poi abbiamo a 40.000 i cuscinetti ceramici un 0,1% quindi diciamo che il rivestimento della catena è quello a qualche prezzo leggermente migliore sembra e poi possiamo andare ad investire anche sui corridori perché se io mi prendo il buon Ian Christian in questo caso posso dargli una bicicletta da cronometro d'allenamento posso creare per quel corridore il manubrio su misura da cronometro posso dargli una tuta da cronometro più aerodinamica posso mandarlo in galleria del vento a studiare la posizione posso dargli dei pneumatici ad alta prestazione quindi se poi vi è andata ad immaginare tutte queste cose l'hanno fatto molto molto bello in realtà rispecchia anche quello che è il ciclismo attuale quello che le squadre fanno per essere al top perché magari non mi immagino le prime stagioni ma quando poi vai a lottare con le altre squadre del world tour con gli altri corridori del world tour se non hai fatto una di queste cose probabilmente non vinci oppure arrivi giusto lì lì ma poi quella 0-1 che non sei andato a migliorare ti fa perdere quindi molto molto carina questa cosa la modalità sponsor anche qua è cambiata la vediamo velocemente vabbè questa qua ci dice che abbiamo il contratto per quest'anno in realtà non l'ho vista benissimo però comunque ecco qua volevo volevo vederla volevo provarla un attimo diciamo non sono riuscito ancora a provarla perché ho appena iniziato la stagione e in questo caso avendo il contratto di due anni con questo team mi dice your sponsorship contract are signed for next year you have no prospecting quindi per la prossima stagione abbiamo già un contratto e non ci sono prospettive quindi sarebbe molto interessante da vedere questa cosa appena salta fuori magari la prossima carriera che vado a fare segno direttamente il contratto per un anno anzi aiutatemi voi scrivete qua sotto nei commenti se volete vedere la modalità carriera e se preferite vedere una squadra continental con tanti corridori promettenti under 23 oppure se preferite vedere una squadra professional di questo tipo simile a questa con dei buoni corridori oppure se preferite proprio vedere una squadra con tutti i corridori più forti che ci sono nel mercato ci sono come budget 800 milioni 800 mila euro di monete diciamo all'interno di questo gioco quindi comunque si riesce a fare una squadra molto interessante con tanti campioni all'interno quindi aiutatemi scrivete qua sotto nei commenti cosa preferite vedere che da prossima settimana inizieranno le puntate di Pro Cycling Manager e se questi video poi andranno anche bene mi piacerebbe portare una serata a settimana la live su Pro Cycling Manager quindi ci sarà da divertirsi altra cosa che mi piace molto e queste sono ormai anni che Pro Cycling Manager la porta mi ricordo anche nelle vecchie edizioni con cui giocavo sono i fornitori dell'equipaggiamento quindi telaio ruote e gruppi il bello è che ho visto che utilizzando le mod ci sono anche altri telai e poi all'interno del gioco lì possiamo vedere praticamente uguali al reale stessa cosa per le ruote stessa cosa per i gruppi e se riesco a fare anche tutto bene quando vai a scaricare nelle mod un telaio tipo io voglio comprare un tipo di bici e poi vado a segnare quel contratto ho una bicicletta standard se poi prendo la maglia rosa prendo la maglia gialla o tutte le altre maglie che ci sono nei grandi giri la bicicletta si va poi ad adattare alla maglia che ho vinto quindi molto simile al reale ruote anche qua carino anche qua è carino stessa cosa per i gruppi una cosa che ti fanno vedere nella carriera c'è la possibilità di andare anche a sviluppare biciclette o gruppi ma questa se poi andiamo a fare la modalità carriera l'andremo a vedere con calma che è quella una cosa carina che ti fa pensare di aver sotto controllo per davvero una squadra questo è il budget qua ci sono gli obiettivi che chiede il tuo sponsor dove devi fare il meglio possibile ad esempio UE Trophy come dice che sarebbe l'UE Tour con il nome cambiato in questo caso fare un top 5 in una tappa oppure ricevere l'invito alla freccia vallone qua vediamo altre cose che si possono vedere all'interno questo è il bilancio delle finanze squadra nazionale in questo caso per questa squadra che ho creato mi hanno dato la Svizzera avevo la possibilità di scegliere tra Svizzera e Austria questi sono il campionatore mondiale ed europeo che si farà poi con la nazionale ma altra cosa carina che c'era in realtà anche già su Prosecchi Manager 2023 ma non avendo mai usato praticamente la modalità carriera non l'ho sfruttata adesso vabbè qua sono gli allenatori che dobbiamo andare a segnare un tipo di allenatore al corridore in base all'allenamento che vuole fare vabbè io volevo andare a vedere quest'altra cosa molto carina abbiamo lo scouting ma oltre allo scouting che possiamo andare a mettere degli scout in giro per il mondo dove vogliamo noi qua dopo un po' esatto ti fanno vedere tutti i corridori che hanno trovato qua sono tutti corridori giovani e chissà che magari non sono corritori veri ad esempio Bustos Henry e questo è l'osservatore che l'ha trovato ma volevo provo a far vedere la squadra under 23 possiamo andare a fare una squadra under 23 qua esatto la gestiamo possiamo mettere un organico maggiore minore e ci costa un tot euro al mese e devo ancora sperimentarla ma la cosa di avere una squadra under 23 assieme alla tua squadra è molto molto carina poi i corridori qua della squadra under 23 in questo caso non li vai a scegliere 3 ma te li scegliere direttamente il gioco sono proprio curioso a provare in realtà questa modalità della squadra perché spero che simula il reale spero che ti simula quello che fanno realmente quindi se ho un corridore promettente magari in una in una gara posso schierarlo all'interno della mia formazione e sono curioso anche a vedere poi i risultati che vanno a fare vabbè altre cose da vedere qua sono lo staff poi appena si ha più va budget si possono mettere gli allenatori migliori si possono prendere dei migliori osservatori si possono prendere dei migliori medici ma sono veramente tante le cose che si possono andare a vedere nella carriera e tante cose che ti fanno pensare di seguire un vero team qua vediamo gli ultimi risultati ti fa vedere tutto quello che succede classifiche ovviamente primo in classifica UCI è tra dei Pogacar come dal vero in questo caso secondo Winger terzo Roglic quarto Edendol Remi sarebbe Remi in questo caso non ho utilizzato la mod però quando si va poi a mettere la mod si vedono i nomi veri per fortuna diventa ancora più carino detto questo però abbiamo visto praticamente tutto e giusto per concludere il primo video di Persecreti Manager andiamo a giocare alla modalità pista vediamo se con questo riusciamo a giocare un attimo meglio lo provo direttamente assieme a voi e mi raccomando commentate qua sotto che tipo di carriera volete vedere se preferite vedere la modalità giocatore oppure preferite vedere la modalità carriera io in mente ho la modalità carriera devo dirvi la verità allora commentiamo caring è quello che mi ispira un po' di più facciamo solo uno prendiamo prendiamo attenzione cambia tutto perché con la modalità commessa ci sono i corridori reali ok mettiamo un vediamo se mi disegna prendiamo prendiamo uno molto veloce vabbè Vernon in realtà volevo vedere le biciclette però sono rimaste queste allora io ho selezionato Zwin davanti e dietro che sarebbe zip e il telaio passolo che sarebbe pinarello vabbè caschetto lo mettiamo a caso secondo me ho questa paura di solito succede sempre così nelle gare su pista che io seleziono delle biciclette o dei caschi e poi mi me lo danno e poi mi danno quello che vogliono loro di fatto è quello che è successo ma non importa vediamo come andrà a finire questa modalità Karin sparto in ultima posizione c'ho il corridore in realtà più veloce allora abbiamo appena fatto un giro di pista aspettiamo che qualcuno si sposti intanto rimango in ultima posizione vediamo esatto adesso mi stanno facendo un po' il buco rimaniamo qua non sprechiamo troppe energie perché mancano ancora 300 metri il corridore ecco ecco adesso è il momento perfetto per uscire ma c'ho l'olandese che mi blocca andiamo a tutta andiamo a tutta e proviamo esatto andare davanti con una volata pazzesco Ethan Vernon riesce a vincere questo Karin e detto questo spero che questa puntata di Pro Cycling Manager 2024 la prima vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale c'è la campanellina per rimanere aggiornate su tutti i prossimi video e non dimenticatevi anche di lasciare un bel like e se lo fate siete dei grandi e detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti